Buongiorno! Buongiorno a lei! Una bella giornata di sole oggi, né? Sì, è una bella giornata, ma né che vuol dire? Né! È un intercalare! Come dire... vero? Ah, non lo sapevo! Ha visto? Ho imparato una parola nuova, grazie mille! Cosa posso portarle, comunque? E senta, potrei avere un bianchino? Un che? Sì, un bianchino! Un bianchino è un vino bianco della casa! Ah! Bianchino non l'avevo mai sentito, guardi! Comunque, abbiamo un ottimo frascati, colli lanuvini, una fantastica malvasia puntinata e un amore, guardi! Allora, se lei la suggerisce, farei la malvasia puntinata, per favore! Gliela suggerisco sì! Comunque, lei ne capisce di vini, eh? Complimenti! Beh, diciamo un po' sì, dai! Ottima scelta!